un saluto a tutti i bimbi io sono ancora qui nello spazio morbido della sezione ragazzi della biblioteca civica di pordenone e sarei anche pronta a vedere che cosa c'è dentro alla nostra borso delle letture oggi ma bimbi aspettate perché manca qualcuno alice che cosa stai facendo ma dormi vai via dai svegliati ma cosa c'è uffa sto facendo un riposino dai pigrona ci sono le letture tra un pochino ci sono regina lettina dai ci sono regina lettina sì ecco sospettate a dirmelo dai dai andiamo muoviamoci facciamo un sonnellino sono stanco e nervoso farà un sonnellino mi piacciono i sonnellini dopo sono sempre più contento spero di fare un bel sogno regina e cosa dove quando dove che cosa stai facendo sto cercando di fare un sonnellino perché sono stanco e nervoso e un sonnellino aiuta quando sei nervoso sì un sonnellino aiuta quando sei nervoso oh scusatina sono davvero nervoso ora sono nervosa anch'io molto nervosa forse mi serve un sonnellino forse ti serve proprio un sonnellino farò un sonnellino anch'io con il mio pupazzo preferito oh oh pronta prontissima sogni toro prontissima wow che bel sonnellino mi sono riposata non sono più nervosa com'è il tuo sonnellino reginal? com'è il mio sonnellino? secondo te non sto facendo nessun sonnellino ma se è così come mai sto volando? e perché ho una testa a forma di rapa? bella domanda sono una testa di rapa volante è una testa di rapa volante è una testa di rapa volante è una testa di rapa volante sto volando e sono una testa di rapa oh ciao reginald hai fatto un buon sonnellino? certo testa di rapa ciao 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 ciao